È entrato in vigore il piano di governo del territorio di Varenna che già aveva suscitato le dure critiche delle associazioni ambientaliste e della minoranza in consiglio comunale fermamente contrarie al progetto del polo turistico a Oliviedo. E sulla questione torna nuovamente all'attacco il consigliere regionale del PD Raffaele Straniero che punta il dito contro la regione. Nonostante le rassicurazioni dell'assessore Viviana Beccalossi sono stati confermati il polo turistico, il centro culturale integrato e il parcheggio multipiano subacqueo. Non saranno costruiti gli atolli inizialmente previsti, sottolinea Straniero, ma nel testo si lascia intendere che si potranno perseguire soluzioni che prevedono una sorta di espansione della frazione di Oliviedo sullo specchio d'acqua. Tutto in barba alle direttive regionali che mesi fa avevano bocciato il progetto. L'assessore Beccalossi rispondendo a una nostra interrogazione in aula, prosegue il consigliere, aveva rassicurato che la regione avrebbe provveduto a sistemare la questione. Il testo del PGT contraddice però quanto prescritto dal Pirellone prevedendo soluzioni dal forte impatto ambientale in un contesto paesaggistico da tutelare. Straniero ha annunciato di aver pertanto presentato una nuova interrogazione alla Beccalossi.